Amici dello sportello del cittadino ci troviamo a Taranto in via Orazio Flacco. Abbiamo raccolto la denuncia, la rabbia, lo sconforto di un cittadino, di una persona che ha un'attività commerciale il quale denuncia appunto il barbaro modo in cui sono stati realizzati i marciapiedi. Il marciapiede è stato ripavimentato però evidentemente non è stato adeguatamente livellato motivo per il quale quando piove l'acqua entra nell'esercizio commerciale, nell'attività. Nello specifico stiamo parlando di una carrozzeria, di un'autofficina. In buona sostanza la pendenza, lo dico in termini impropri, non essendo un tecnico della materia, la pendenza non è stata realizzata per così dire a regola d'arte, motivo per il quale basta un po' d'acqua, basta un minimo di pioggia e puntualmente l'attività commerciale, l'officina viene invasa di acqua. Addirittura siamo arrivati al paradosso che nelle vicinanze, vedete, di una colonna di scolo del tubo, uso termini impropri perché non sono né un architetto, né un ingegnere, né un geometra, questo è, vedete, la colonna, il tubo che raccoglie le acque e il titolare dell'attività è stato costretto a realizzare questa piccola struttura in cemento proprio per far sì che le acque, come dire, venissero bloccate, venissero arginate e invece non defluissero proprio all'interno della sua officina, della sua attività commerciale. ha dovuto ingegnarsi con i propri mezzi per evitare questo scempio. È davvero pazzesca una situazione del genere, vedere come vengono svolti i lavori pubblici. Allora c'è sicuramente una ditta che ha realizzato i marciapiedi, però poi l'amministrazione comunale, gli uffici tecnici, avrebbero dovuto controllare sulla bontà, tra virgolette, della esecuzione dei lavori. Ciò non è stato. Per la cronaca i lavori sono stati eseguiti verso febbraio-marzo di quest'anno del 2016. A questo punto mi rivolgo all'assessore ai lavori pubblici, nonché vice sindaco Lucio Lonuce, il quale si dichiara sempre attento, dice lui di essere sempre attento alle problematiche relative alla esecuzione, alla realizzazione dei lavori pubblici. Beh, Lonuce, vogliamo dare le risposte su questo scempio, perché vedete molti cittadini magari pensano di stare a Venezia, ma non per le bellezze di Venezia, ma purtroppo ritorna in mente la laguna quando si verifica, quando c'è l'acqua alta. Via Orazio Flacco, come Venezia, entrambe con l'acqua alta. Assessore Lonuce, dobbiamo affogare? Ci risponda. Grazie.